Con Federica Carletti, Uibavolle e Bustarsizio, questa sconfitta che arriva dopo due vittorie consecutive, vi aspettavate un pomeriggio diverso immagino? Sì, sicuramente, avevamo in mente un altro tipo di partita, non è andata, secondo me il secondo e il terzo set l'abbiamo un po' più lottato, il primo per niente, c'è mancata un po' di lucidità, ma sicuramente anche di difesa, di copertura, loro sono state molto attente a queste cose, invece a noi c'è proprio mancato questa cosa qua. Come si riparte dopo una sconfitta del genere? Si riparte comunque a testa alta, la prossima settimana abbiamo Cuneo, che è sicuramente una partita abbordabile che dobbiamo affrontare con un altro atteggiamento rispetto a quello di oggi, guardare cosa non è andato di questa partita e però pensare subito alla prossima perché dobbiamo macinare punti. Grazie. A voi.